Dov'è la pagina? Qua Di tombo Suono vocalico Coinsistente in una sorta di vocale composta Cioè nella fusione di una sola silaba e di due vocali Delle quali una aspra e una dolce Non accentata Ho capito E poi messo? Si puoi entrare Buon appetito Buon appetito Grazie a tutti Dottor Kartoffel, lei mi sa dire che fosse un dittongo? Uno dittongo! Uno dittongo? E' molto difficile da tradurre Senza un'ottima dittongazione Il nazismo non potrà mai conquistare il mondo E noi tedeschi allora cosa faremo? Dobbiamo conquistare il mondo Il mondo Con questa voce Con questa voce Allora, ti spiego il mio piano Qui c'è la mappa Poi Duffersmith si mise in cammino E andavano nella terra degli Duffersmithiani Allora i pastori non trovano via la pietra della bocca del pozzo Mh quindi dottore no? Ja Allora C'è una casa In questa casa C'è La russa E' presente quello che dice Diciamocelo democraticamente Ja Ja Quello là Quello tizio con la barba e il naso brutto Ja Noi attaccheremo la sua casa E ci invadroniremo dell'Italia Ja 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 Sono pazzo Ja Però Hai portato il Dittongo 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 Glielo faccio vedere io il mio Dittongo Il Dittongo si Ora io faccio vedere io Allora Il Dittongo Il Dittongo La macella della Sì no Allora finisce Isacrino non hanno accampato con il Giuda E fece una scorreggia Fige Aiaiaiaiaiaia Aspen Il telefono mi risponde Pronto? Pronto? brando si si mamma eh tutto a posto tu? si si eeeh no per cena non torno, ho da fare e mamma eeeh cose la pastina con la minestrina no no la minestrina con l'omogilizzato si si con l'amica che mi piace a me va bene va bene va bene va bene si si ciao 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 scusa apri la mia mano eeeh dicevamo? dai 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 capisco anche io la mamma è la mamma migliore del mondo mi prepara sempre i soffici di pino siiii comunque parliamo di cose serie dicevo facevano una scorreggia con scorreggia fino a lecchi e gli uomini di iuda 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 siiii 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 Grazie a tutti.